Hanno usato un semplice drag and drop e, dalla Explorer finestra, afferrare e tenere premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare il file di disegno in formato PDF sull'AutoCAD palco. Alla riga di comando, immettere il numero della pagina, specificare il punto di inserimento, impostare il fattore di scala e l'angolo di rotazione.